Il tetto in amianto rimarrà almeno per adesso sopra le teste delle 99 famiglie che abitano nelle case popolari di via Malpighi. La loro battaglia era iniziata dopo la tempesta di acqua e vento dello scorso 13 luglio che aveva rotto la copertura dei tetti come ormai noto è più in amianto. La richiesta degli inquilini sostenuti dal Comune e dal Sunia era quella di rimuovere completamente l'Eternit e sostituirlo con un altro materiale non pericoloso. Per adesso è stata completata la messa in sicurezza della zona con la sostituzione dei circa 30 ondulati rotti. Per il resto ancora nessuna novità all'orizzonte come confermato alla conclusione della riunione del Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa, l'ente che ha in gestione le case popolari di via Malpighi. Quando ci saranno le risorse per noi è il lavoro di Arezzo Casa, cioè quello di fare la manutenzione degli alloggi. Quel tetto è il tetto di grandi dimensioni che richiede anche risorse importanti. L'avevamo anche inserito in una richiesta di finanziamento prevista dal Piano Casa Nazionale, l'avevamo richiesta tramite la regione toscana, l'avevamo fatta in tempi non sospetti perché l'avevamo fatta nel 2015, anche molto prima delle polemiche recentemente sviluppate. Però non c'è stato il riconoscimento delle risorse. C'è chi però ha detto che quelle risorse per la sostituzione del tetto ci sarebbero? Ha detto una cosa che non è vera. Io non voglio usare un altro termine più spiacevole, ma è una cosa che non è vera. C'è molta preoccupazione da parte degli inquilini, da chi risiede in quella zona. Cosa si sente di dire a questi inquilini preoccupati per la situazione dell'Eterni? Ma mi sento di dire due cose. La prima è che su quell'edificio e sulle pertinenze dell'edificio, rispetto a tutto il resto, sono stati fatti alcuni accertamenti. E quindi c'è stato un laboratorio che è andato lì, ha fatto dei prelievi, ha fatto delle visure, ha fatto quello che si deve fare secondo la normativa vigente. E ha escluso la presenza di qualsiasi inquinamento. La seconda è di contestualizzare questa vicenda. Via Malpighi si trova più o meno nel mezzo e in una grande area, soprattutto a vocazione industriale, che è compresa tra la zona del Tramarino e la zona dei Pratacci, in cui buona parte di quei fabbricati sono coperti dallo stesso materiale. Ora, io voglio pensare che se c'è un problema di salute pubblica, un problema generale, per cui l'intervento avrebbe dovuto avere un'altra natura e anche altri tempi,